H-Double Face ragazzi, long story short Vento Divino è andato a Lucca Comics quest'anno, io non ho potuto per studio è andato in cosplay da Chris di Deltarune ho già dato un'occhiata al suo Instagram e vi consiglio di fare altrettanto perché sono uscite delle perle però mi ha detto se vuoi una versione un pochino più completa, ho fatto un mini video sul canale ho detto farebbe piacere se tu facessi una reaction e tanto dura 3 minuti quindi non mi ruba tempo direi quindi ragazzi andiamo, proprio video cotto e mangiato questo, ok? aspettate, ho metto un attimo il volume, giusto per essere sicuro e mi accerto anche che stia registrando visto che la reaction non è una di quelle cose che si possono recuperare una volta fatte quindi, ok mi metto a commentare solo se c'è qualcosa che riconosco e che mi interessa spero, vabbè, spanto ma mi fai vedere com'era, aspetta ok, easy, ci sta quella era Basile e poi c'era Azile, mi sa però loro l'ho visto su Instagram cosa esche? il Pipis, no, Mrs. Pipis, fantastico che touch, nice touch eccole qua la funny gang anzi la frrk gang quindi c'è Fora, c'è Ben Susi, non so chi la interpreti qui questo meme, minchia, ricordi the power of bisexual witches no, bellissimo minchia, la gang al comple al completo però anche questa, mi sa, l'ho vista su Instagram your cookies were great give me the recipe, please very strong, smart and old ah, si, si, si well, me and Susi need you come with me or take his mouse troppa roba, aiuto porca troia oh no I swear we weren't fooling, no, eh anche qui beh, però ci sta questa è pretty smart in realtà come cosa immagina, la gente al supermercato cazzo, l'hai pensato delissimo questo l'ho vista bellissimo no esatto cattivi allora c'era un spanto mio cazzo, ho fatto anche bene bravo minchia fantastico si, si, si è stupendo quel mio loculo l'avevo visto no, era bellissimo cazzo, sono morto a ridere la prima volta sono morto a ridere anche la seconda rip for your shoes ralsus del ferro a tutti si, davvero è stato bravissimo quello è un spam tonneo ok, penso sia solo questo no esatto vuoi che non ci sia la scena post-grace tipo film Marvel me lo ho perso ma non si sente non si sentirà mai con la musica non si sentirà mai con la musica fantastico bellissimo ragazzi video fatto e mangiato torno a lavorare a Fidmi Quack abbiamo già una colonna sonora tra l'altro grazie a tutti